5, 20, 50, 100 buoni motivi per andare al centro commerciale Il Giardino. Partecipa al concorso C'è un buono per te e lasciati baciare dalla dea della fortuna. Dal 20 settembre al 10 ottobre ogni 10 euro spesi puoi vincere mille buoni acquisto fino ad un valore di 100 euro. Centro commerciale Il Giardino, Troni, Iperspar e 35 negozi. Ad Avora, Contrada, Risicone, Circonvalazione, Avora Noto.